Una giornata dedicata all'accoglienza e allo scambio culturale, quella trascorsa dalla delegazione polacca proveniente dalla città di Niezno, che ha visitato il comune di Corfinio. La delegazione, composta dal sindaco Tamas Budaz e da altri tre componenti, Joanna Kozlowska, Dariusz Pilak e Daria Mellinger, è stata accolta presso la sede comunale di Corfinio per la sottoscrizione del preliminare di cooperazione. L'incontro è stato curato dal Comitato per il gemellaggio di tre prime capitali, Corfinio per l'Italia, Plisca per la Bulgaria e Niezno per la Polonia. La delegazione bulgara è stata in visita a Corfinio nel settembre 2022, mentre la delegazione polacca è giunta nella concapeligna il 6 luglio scorso. Dopo la firma, gli ospiti hanno visitato il Museo Civico Archeologico Antonio De Nino, alla presenza del sindaco Romeo Contestabile, del presidente del Comitato di Gemellaggio Luciana Di Mario, della presidente della Proloco Angelica Lucitti e di altri componenti del Consiglio Comunale di Corfinio e dello stesso comitato. Per l'occasione, all'uscita del museo, si sono esibiti quattro guerrieri italici muniti di scudi e lance, sotto l'attento sguardo di donne e bambini vestite con abiti d'epoca e sotto lo sguardo compiaciuto di un nutrito gruppo di turisti che si accingevano ad entrare al museo. Scusa, gamberi! Scusa! Experiti! Vi imponere! Ave! Ah, non ci riesce a rassare? Ma ci riesce a rassare? Andiamo! Wow! Terminata la visita al museo, la delegazione si è recata presso l'imponente cattedrale di San Pelinola, la cui storia è stata illustrata dal parroco Don Vincenzo Paura. Nel pomeriggio il primo cittadino di Ignezno e i suoi collaboratori hanno visitato l'eremo di San Venanzo a Raiano, l'eremo di Celestino V e il tempio di Ercole Quirina a Sulmona. E buongiorno, oggi è un giorno importante per Corfinio. Stiamo iniziando una serie di genellaggi con la Polonia e con la Bulgaria e vogliamo allargare la nostra partecipazione come Corfinio all'Evario Europeo. Corfinio è una città importante per la storia che ha visto, che ha conosciuto e si pone oggi al centro della Valle di Ligna per portare avanti questi discorsi di collaborazione con tutta Europa, augurando che l'Europa vada in pace una volta per tutte e finisca con le guerre e ci auguriamo il meglio per tutti. Sono gente stupenda, questi signori sono un sindaco stupendo con delle persone che sembrano più latine che nordiche, quindi vogliamo andare avanti con questo processo. Abbiamo avviato l'Itere questa mattina per fare il gemellaggio con la prima capitale polacca, ampliato nel senso che precedentemente lo abbiamo già fatto con la prima capitale bulgara, quindi adesso collaboriamo con queste due nazioni per completare il gemellaggio in un senso formale.